Ora ragazzi facciamo entrare la ragazza la ragazza che tutti conoscete Antonella Entra Antonella, entra Antonella avvicinati a me e lei canta questa ultima occasione, l'ultima occasione ed è una canzone veramente precisa dal titolo perché questa è l'ultima occasione di Antonella per stare con noi perché come tutti sanno il 30 giugno praticamente tra una settimana l'ultima puntata di Dona la Rai coincide proprio con il giorno del matrimonio di Antonella e quindi non finisce qui perché lei da domani, cioè da lunedì non verrà più qui con noi non perché non voglia però ha da fare, deve fare tutti i preparativi le cose che fanno, le prove col marito insomma ci sono un sacco di cose a fare non le prove, le prove, ma le prove del matrimonio, giusto? Allora, le prove del matrimonio insomma ragazzi e niente a questo punto Antonella lei non verrà più da lunedì e quindi la salutiamo oggi ok grazie ma dovremmo anche dire che il matrimonio di Antonella ci sta così a cuore che gireremo uno special apposta che andrà in onda a metà luglio questo speciale Antonella 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 succede succede perché comunque insomma poi voglio dire ci rivediamo al tuo matrimonio però giusto? e allora Antonella adesso proprio dai il meglio di te senza piangere ci giriamo e mica vai alla morte giusto? oddio insomma però allora Antonella forza cantiamo c'è di peggio guarda ti dico la verità c'è molto peggio il matrimonio su su che la vita continua poi vedrai che dimentichi insomma altre cose vabbè allora Antonella a questo punto cantiamo va bene? sei pronta a cantare l'ultima occasione vai Antonella uno come te io non lo troverò mai più uno come te ma non posso più chiederti tempo per cambiare perché sarebbe inutile sarebbe solo per pietà ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te e perdere con ti anche in questa ultima occasione che mi dai e sarà tardi quando cercherò di te ma non posso più chiederti tempo per cambiare perché sarebbe inutile sarebbe solo per pietà ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te e sarà tardi e sarà tardi quando cercherò di te di te e sarà tardi quando cercherò di te di te e sarà tardi e sarà tardi a te e sarà tardi e sarà tardi Bene Antonella, va bene, ci vediamo Ok, ciao